aprendo i forziere benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video se avete messo like siete delle persone da sposare se non avete messo like rimarrete da soli a vita cioè come me io no scherzo io metto sempre mi piace video di gabilo cioè mi metto auto mi piace intanto non credo questo si sono staccate le gano quasi bello del mondo lego c'è come tanto fedele al film io stavo cercando di seguire ma l'ho capito dicevo i giochi lego come tanto sono fedeli al film come tanto non ci capisci un cazzo ma poi dritto andiamo dritto vale vabbè ma se io salto banalmente blocco tutti sti cosa madonna santa sta roba è impossibile c'è frate ma dopo che prosa roba perché giù sente lui non può fare la stessa cosa che ho fatto io no eh allora visto che sta cosa noi qua non la sappiamo fare a posto e no e li blocchiamo vabbè io io ci potrei pur provare però sono troppo veloce poi sono troppo attaccati più chiaro cioè capito fossero staccati va bene anche ma che cazzo ci riesce questo no secondario a posto ma ecce io questo video lo posso chiamare schivo le trappole a posto modo sto fuori spingiamo la scatola nel fuoco soia il fuoco mi amo come chiedi sai che non l'ho mai sentita la canzone io l'ho sentita solo tramite tic e toc eh oddio io l'ho potuto madonna qua c'è una password giustamente è geniale sta cosa sono i pulsanti playstation e la u no no ma il più allora facciamo così me li scrivo ah questo qua io faccio una cosa faccio la foto a posto ho fatto la foto eeeh eeeh allora la u il più quella specie di cerchio e mo la ho dove cazzo sta ho vedi che farsi la fotte sa tutti eh eeeh poi andrà a memoria se la memoria non mi ricordo ciò che ho fatto ieri devo ricordarmi quello qual è la password del del cinema sede cinema però è geniale cioè quelle erano andiamo ce ne fottiamo eeeh e questo cosa mi ricorda sempre una missione di lego batman perché guardiamo da sempre eeeh tutto porta la ovviamente toh a posto e vedi se avete visto la serie lego batman per nintendo ds scrive tastagio cero ecco eeeh è Darth Vader bellissimi questi questi easter egg parliamo come le culturelli ecco ecco quello sono io la mattina c'è che fa così c'è che fa così posso non aver capito un cazzo scusatemi bellissimo bellissimo quello che si porti il cavallo c'è che si porti il cavallo in braccio boh 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 e metti mi piace così sarai dottore dottoressa ciao